Ciao a tutti, benvenuti. Come potete notare siamo ancora qui alle prese con le ultime fasi organizzative di sottosopra, il ciclo di seminari che partirà all'Arcibellezza di Milano sabato 17 febbraio. Innanzitutto volevo a nome di tutto il comitato organizzatore ringraziarvi tantissimo per la mano che ci avete dato contribuendo alla raccolta fondi che abbiamo terminato domenica e che è andata a buon fine e che ci permette di affrontare questa ulteriore fase organizzativa con maggiore serenità. Dopodiché volevo darvi anche due informazioni per come procedere all'iscrizione perché chiaramente tutto lo sforzo che abbiamo fatto non sarà stato utile se poi non saremo in tante e in tanti a approfittare di questo luogo di discussione e di approfondimento che ci dovrà a Milano nei prossimi mesi. Pertanto vi invitiamo a scriverci per avere informazioni al nostro indirizzo email che è idee.sottosopra.gmail.com oppure ancora potete trovare già molte informazioni e anche iscrivervi direttamente sul nostro sito che abbiamo messo online pochi giorni fa e il cui dominio è www.ideesottosopra.it ciò detto non mi rimane altro che dirvi a presto, siamo carichi, non c'è un sacco di energia e non vediamo l'ora di incontrarvi tutti e tutti qui a Milano tra pochissimi giorni. A presto, ciao! Aiuto! A presto!